La prevenzione delle lesioni di legamento crociato interno In questi due giorni lavoreremo insieme sugli aspetti dell'apprendimento motori in relazione alla prevenzione degli infortuni, ma anche sugli aspetti motivazionali. Non vedo l'ora di vedervi in quei due giorni ad un corso che è aperto a fisioterapisti e allenatori sportivi. Ciao!